23 un po' brutto numero 93 gira il contrario 39 tu sei troppo bello tu sai veramente grazie posso emozionare no dai bucciace 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 vado 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 E' la madonna che è donna, guardala. E' la madonna che è donna, guardala, 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 guardala. E' la madonna che è donna, guardala, 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 e' la ragazza vi faccio dibattito fa insomma che la la ma un'altra un piacere, la 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 sarà una bigliana da giù quella e c'è della rezzterà che la la, che la la, che la la chi sarà? hey shimì, pennellone amore amore, se stiamo a tutti i dati a tutti i dati a tutti i dati